Sono Simone Mari, ho studiato ovviamente in Ant. Verso la fine a metà ho cominciato a lavorare in realtà facendo metà giornata in Accademia, l'altra metà giornata in diretto, di corsa, in uno studio, in un'agenzia. Il mio percorso professionale, superata l'Accademia, ha visto il cambio già di quattro agenzie, di cui l'ultima in cui sono, in cui faccio direzione creativa e quindi gestisco il mio reparto creativo. Quando sono entrato in Accademia non sapevo assolutamente chi sarei o cosa sarei diventato. L'ho scoperto andando avanti nel percorso di studi. Una cosa molto positiva del percorso di studi di Ant è la multidisciplinarità. Entrando dentro e conoscendo docenti professionisti e applicando e lavorando con mano su tutte le varie materie riesci a darti te una forma.